Più sudi, più sai di fresco. Sì, con i deodoranti Infasil 2C. Quando Giulia suda, la molecola 2C si attiva. Dopo 5 minuti la freschezza è qui. Dopo 15 minuti, guarda com'è cresciuta. Perché più Giulia suda, più cresce la freschezza. Con Infasil più sudi, più sai di fresco. E oggi prova i nuovi stick Easy Dry. La loro texture nasce fluida e diventa compatta. Gentili sulla pelle, asciutto veloce. Infasil Deo Stick, da Angelini. Grazie.